Olimpiadi 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 di 60 Panini Summer Camp Presenta Ciao a tutti amici Benvenuti nei fumetti di Topolino 60 Panini Summer Camp Le Olimpiadi Olimpiadi Recensiremo tutte le statuette di Topolino Sport Collection Collezionali tutte Abbiamo Topolino e Mini Paperino e Pippo e e si Paperina e noi apriamo il primo quello corto apriamo Paperino Collezionali tutte E' arrivata la Topolino Sport Collection 6 imperdibili statue per celebrare 6 discipline sportive e collezionali tutte Abbiamo Topolino e Mini Pippo e Paperina e Paperino e Zio Paperone non ce l'abbiamo Zio Paperone non ce l'abbiamo Mai trovato Peccato Peccato perchè non leggo molto Zio Paperone e Paperino voglio solo per collezionare i gadget che gli danno U Italia no Va bene apriamo Paperino e qua e qua c'è il disegno come per le 24 ore le 24 ore di Paperino e qua c'è studio del personaggio studio del personaggio di Alessio Coppola non so più ragazzi lo sapete il 26 agosto 60 panini il 26 agosto era la giornata mondiale dei cani e leone cani fifone esito qua c'è Paperino vediamo e poi abbiamo per tutto l'anno con gli amici Disney guarda che regalo una borsetta di Topolino si Paperino la rivista prima la rivista perchè non si sa quale è la rivista vecchia c'è le carte da gioco d'autore con l'istazione di Fabio Celoni il masso rozzo di Topolino 3429 il masso nero Topolino 3430 che le istruzazioni dedite di Fabio Celoni le carte d'autore di Topolino capito? e poi c'è Topolino Junio in edicola da 20 luglio su per regalo il disco volante che a settembre forse lo prenderemo su internet circa soprattutto sugli animali di viaggio creare il tuo passaporto disegna brutto sfida i tuoi amici per me la giornata mondiale del cane il festeggio con Stella il primo settembre ok? ok ci sono storie vecchie no? storie degli anni 90 storie e il settimo è Paperino la fortuna impresa sportiva che ce la farà Paperino Anta? e qua ci sono tante vecchie storie dal 96 al 2018 cioè Pia zio Paperone e la serata delle ali Paperino l'auto ad ogni costo Paperino la 96 2005 Paperino e la pribattesa sul affare 1996 Paperino la fuga del vicino 2005 Paperino e la pazienza dei goccioli 2018 Sgizzo e il giorno di groia 2003 e qua vedete c'è la pubblicità di questo tutte tutte le storie vecchie nuove di Paperino di Island stanno cominciando a mettere pubblicità e Paperino storie inedita con le storie della Pia Pia 60 panini cioè io dietro ci sono io uuuu adesso vediamo la statuetta di Paperino uuuu 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 la giornata mondiale dei catti è febbraio uuuu 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 uuu uuuu uuu uuuu 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 Panini, sei sempre un coglione Paperino E il suo pistallo Adesso apriamo Topolino Sporcolation Dai, non vedo l'ora di aprire con la posta Apriamo prima il regalo Sì Qua c'è La borsa di Topolino Collezionale tutte con Topolino Scherma Qua abbiamo trovato Paperino Nuotto nel Paperino Mettiamo anche la rivista Con Paperino Nuotto Lo mettiamo nella foto ufficiale A posto Topolino Scherma E Mini Tennis E qua manca Zio Paperone Golf Guarda che bello Topolino con la faccia da A Lo fissiamo per anni Adesso Mini Ma sono Mini e Sexy E Topolino che farà Vediamo Topolino 3427 Che si scopre il Misser Vertigo Che lo scopriete Proprio in diretta dal vostro canale Ma vediamo Topolino e Mini Scherma Io lo voglio aprire Perché non sono un maniaco di sorprese Voglio con il pedistallo attaccato Voglio Immediatamente Ecco qua Topolino e Mini Topolino ne ha due E Mini ne ha uno Ah si Topolino ne ha uno E Mini ne ha uno Abbiamo Topolino E non cadere Paperino Basta non essere in piedi Anche se sape di stallo Novità Topolino Scherma Guarda che carino Guarda come è fatto bene Topolino Scherma Il pedistallo di Mini Guarda Si regge in piedi Anche se sape di stallo E' molto be Sono molto belle Le sorprese di Topolino Sport Sarà diviso a 5 parti E collection Sono belli ragazzi Sono bellissime Anche Mini Mini La Tennis Guarda che carina Mini Tennis Bellissima Guarda come è i dettagli E guarda Paperino Paperino nuoto Vabbè Paperino Cade sempre Purtroppo Adesso apriamo Topolino 3427 La copertina Disegni di Andrea Andrea Fecero E Colori di Andrea Cagol Andrea Cagol Andrea Cagol Andrea Andrea Cagol E Andrea Fecero Ciao a tutti La copertina La copertina L'abbiamo creata Io E assieme a Andrea Cagol Adesso siamo diventati amici Siete tornati Sì E Rocca Da quando torna La copertina E' bella Paperino Che scia Sul Con il Green Minule Verde E qui Qua Qua E E E Vesteggiare Ci sono Anche io In copertina Gerard Mc Boing Boing Ciao Se stai Salutando Questo Video Senta C'è Di Sedicola Sì Sì Il Paper Io Sono Rocca Zito Stupidone Sei in arresto E Grazie anche Il nostro Zio Paperone Sì Sì E vediamo Lo settimana Di Silvia Zin Che Dicca Riatira Paperopoli Dove c'è Paperino Che Al primo Posto Secondo E Terzo Dove c'è Questo Tizio Topolini Sì E Paperino Lì E Questi Tre Paperotti Di E E E Ciao Sono Rocca Sì To Rocca Da Merda E Poi Abbiamo È Arrivata La Topolino Sport Edition Collezione Collezione Le Tutte Peccato Che non Ho trovato Zio Paperone E poi Abbiamo Crema Bel Paese Aventure Spassare A settembre Facciamo Che Che Questi due Hanno Incontrato Mila E Questo tizio Qui Vanno A giocare A tantissimi Sport Incontrano Mila E Mumu E Continua Le avventure Spaziali Poi Abbiamo Mi Aless Bertagni Fai Ciao A tutti Sono Aless Bertagni Faccio Colazione Na 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 Ciao Volevo Vedere Le Anticipazioni Con Andrea Fecero Andrea Cagorsi Vediamo Io sono Andrea Fecero Sì Andrea Fecero In seguito Tornerai Due Votere Sì Torna Macchia Nera Di Gofer Donne Scarpa Topolino Quello Con la Storia Di Macchia Nera Quello Della Storia Che C'è Sulle Carte Sì Sì E Poi Abbiamo Io Sono Macchia Nera Sul Topolino 3429 Macchia Nera Ritorna Ma Ci Sarà Lo Scoperto Di Mister Vertigo Tito Facci E Libero I Menti Di Rita Paperone E Topolino La Fonte Della Giovienza Della Top Service Guarda Sì E Poi Adesso Volete Vedere La Verra Faccia Di Mister Vertigo Eh Volete Vedere La Faccia Di Mister Vertigo Abbiamo L'ultimo Diario Di Top E Do Quello Che c'è In copertina Sì Che c'è In copertina Del Prossimo Numero 3428 Papi Lava Cassa Rap Appariano Tre Vorte Sì Sono Tre Vorte Wow Che Bello Sì Papi Non E Tre Vorte Apparirà E Io Quante Vuoi Tornare Noi Torniamo Andrea Peccia Andrea Cagor Perché Siamo Stupidi Voglio Che Tu Sparisci Per Sempre Bravi Andrea Peccia Andrea Cagor Hai Fatto Bene E E Io Papi Non Smettila Ok Vediamo Le Storie And A